Ad iniziare sempre anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno di Fortnite voi semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche per restare a aggiornare su tutti i video che escono all'interno del canale vai a leggere un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite e ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice supporta un creatore L3OTEC all'interno di Fortnite taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita detto questo ragazzi vi lascio al video e ciao a tutti ragazzi io sono L3OTEC e bentornati in questo nuovissimo video del canale in questo video ragazzi andremo insieme a vedere un sacco di nuovissime ricompense segrete che possono essere riscattate da tutti voi all'interno di questa nuovissima sessione di Fortnite a partire da questo esatto momento avremo ad iniziare il video come sempre vi invito anche voi se non siete iscritti ad andarvi ad iscrivere al canale per essere sempre aggiornati su tutti i video che sono all'interno del canale attivando la campanellina delle notifiche andate anche ovviamente a lasciare un bel like per supportare il video e condividetelo con tutti quanti i vostri amici così che anche loro sapranno esattamente ragazzi come ottenere queste ricompense gratuitamente per vedere il vero e proprio video ragazzi ci tenevo a ringraziare il fortunato di oggi che ha fatto un acquisto oppure semplicemente ha inserito il codice creatore all'interno di Fortnite quindi il codice creatore L3OTEC all'interno di Fortnite e mi ha mandato la foto su Instagram così io l'ho ripostato ma qui andiamo subito a vedere io ringrazio davvero tantissimo Bingo Bignoso per aver inserito questo codice creatore se anche voi volete ottenere una shoutout all'interno di un video oppure molto semplicemente volete che io vi riposte all'interno di Instagram andate semplicemente ad inserire il mio codice creatore e mandatemi la foto per vedere come ha fatto questo ragazzo guardate questo ragazzi andiamo subito a vedere le ricompense gratuite esatto ragazzi sono arrivate delle nuove ricompense con la nuova season infatti ragazzi la prima ricompensa che andremo a vedere oggi riguarda esattamente un nuovo deltaplano che può essere ottenuto da tutti ragazzi in maniera completamente gratuita stiamo parlando e brevemente del nuovo deltaplano del cubo Kevin di Fortnite come vedete ragazzi questo deltaplano davvero penso sia uno dei deltaplani più belli che abbiamo mai visto all'interno di Fortnite in particolare molto molto carino ma andiamo subito a vedere cosa bisogna fare per ottenere questo deltaplano per ottenere questo deltaplano ragazzi molto semplicemente ci basterà andare a fare una vittoria all'interno di questa nuova season va bene in qualsiasi modalità da quello che ho capito anche su lista squadra e quindi andando a fare una vittoria in questa nuovissima season 8 di Fortnite otterrete subito questo deltaplano appena risolvete nella lobby all'interno del vostro armadietto però per ricontinuare con il video anche probabilmente lasciate qua sotto a questo video un'opinione nei commenti su come vi sembra questa nuovissima season come vi aspettavate se l'aveste migliorato e in particolare ragazzi cosa ne pensate quindi ricapitolando per ottenere ragazzi questo bellissimo deltaplano basta vincere una partita in questa nuova season 8 di Fortnite ma detto questo ragazzi abbiamo subito a vedere la seconda ricompensa gratuita che possiamo ottenere all'interno di Fortnite in questa nuovissima season la prossima ricompensa ragazzi si tratta esattamente di una ricompensa che però è ottenibile solo per alcuni giocatori stiamo parlando della skin di Giada Rossa infatti ragazzi è uscito un nuovo stile per la skin di Giada Rossa e appunto ragazzi questo stile può essere ottenuto da tutti i giocatori che possiedono la skin Giada Rossa infatti ragazzi possiedendo la skin Giada Rossa appena voi entrerete all'interno di Fortnite a partire da ieri proprio quando c'è la nuova season voi sarete in grado e potrete ottenere all'interno di Fortnite in maniera completamente gratuita questo davvero bellissimo nuovo stile Giada Rossa che tra l'altro a mio parere è una specie di mix tra Giada Rossa e la Ghoul proprio perché è molto molto bello e anche in abbinamento con il periodo di Halloween che tra poco sta per arrivare ma quindi queste qua ragazzi sono le ricompense gratuite che abbiamo in questa nuova season di Fortnite ovviamente sono un pochino poche ma faremo subito un altro video appena ne arriveranno altre dato che molti leaks ci dicono che arriveranno anche altre ricompense gratuite del nuovo compleanno di Fortnite quindi come sapete ogni anno Fortnite festeggio gli anni vengono sempre date delle nuove ricompense gratuite ma non ne andremo a parlare in questo video quindi ovviamente se volete sapere come ottenere queste 4 ricompense e soprattutto quali sono ovviamente iscrivetevi con la campanellina della notifica accesa e vedete con Google Slip vi andiamo solo a vedere un sacco di altri leaks infatti ragazzi la lotta tra Epic e Apple continua e molto semplicemente abbiamo aumentato le probabilità di vedere questa nuova season 8 capitolo 2 di Fortnite in arrivo anche su mobile infatti molto probabilmente potremmo di nuovo vedere la disponibilità di questa nuova season all'interno di Fortnite Mobile come ben sapete Fortnite Mobile è già disponibile da un sacco di tempo solo che sicuramente per gli autenti che giocano da un dispositivo Android per tutti quelli che hanno il dispositivo Apple Fortnite è stato bannato da ormai poco più di un anno quindi davvero è da tantissimo tempo che non hanno voluto giocare a Fortnite proprio per questo stanno iniziando a questa lotta legale tra Epic Games e Apple che naturalmente però stiamo vedendole meglio quindi c'è caso che tra poco vedremo di nuovo questa season anche disponibile su tutti i dispositivi di Fortnite Mobile quindi anche per dispositivi di Apple andiamo a vedere prima di concludere il video un'altra piccola nuova informazione che è stata ricapitata all'interno di Fortnite questa volta riguarda una nuova specie di consumabile stavo parlando di un consumabile molto molto simile ragazzi a i Chug Chug infatti ragazzi come ben sapete ormai era tantissimo tempo andando a Pantano Palpitante tropevate quel braccio di Barilli che rompendoli andavano a darvi dello slurp infatti ragazzi però è stata modificata questa cosa e oltre ancora a contenerarmi a mente a darvi slurp ma con un prossimo aggiornamento che vedremo in questa nuova season avremo anche un nuovo barrile in questo nuovo barrile ragazzi non andrà a curarci e darci qualsiasi proprietà curativa ma semplicemente ragazzi esattamente come è stato venendo ora a schermo avremo queste specie di Chug che ancora non sappiamo se andranno spaccati con il piccone oppure se li troveremo nelle casse e basterà lanciarli così appunto andremo a curarci ma molto semplicemente ragazzi per queste specie di Chug Chug ci vanno a dare della velocità in più infatti è con un peperoncino solo che non dovete più consumarlo letteralmente andandolo a mangiare su Vordet ma vi basterà trovarli nella cassa ed inserirli all'interno quindi magari tirarveli sotto i piedi proprio come gli Splash quindi ragazzi queste qua sono tutte le leaks e le nuove news e soprattutto le ricompense che sappiamo che ora sono ancora sono tutte le ricompense queste qua che sappiamo che sono gratuite ora all'interno di Fortnite quindi ragazzi ovviamente anche a voi prima di concludersi con il video vi voglio ricordare ovviamente ragazzi che se non siete iscritti ovviamente andate a iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per restare a aggiornare tutti i video che escono all'interno del canale andate ovviamente a lasciare un bel like per supportare il video e avere altri video del genere riguardando tutte queste news di Fortnite ovviamente io ci tengo di nuovo a ringraziare bingo bignoso per aver inserito il mio codice creatore su Fortnite è stato ripostato all'interno di Instagram quindi Instagram Leotech se anche voi volete essere ripostati oppure volete semplicemente ottenere la vostra schermata di Instagram all'interno di un mio video molto semplicemente fate come fate questo ragazzo quindi fate la foto al vostro televisore al vostro schermo a quello che vi pare quando inserite oppure acquistate ancora meglio con questo codice creatore tagcatemi su Instagram e io vi ricaricherò a tutti quanti detto questo ragazzi grazie mille e ci vediamo alla prossima prima di iniziare il video come sempre anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno di Fortnite ma semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanella di notifiche per restare a aggiornare su tutti i video che escono all'interno del canale bagalo già un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite e ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice supporta un creatore L3OTEC all'interno di Fortnite taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita detto questo ragazzi vi lascio al video